Nel corso della mattinata odierna, a seguito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste e svolte dalla squadra mobile della Questura, sono stati tratti in arresto alcuni cittadini stranieri. Rehman Sadar, nato in Pakistan, classe 1993, senza fissa dimora, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Kam Imran, nato in Pakistan, classe 1981, anche egli senza fissa dimora, richiedente asilo. Niazi Abdul Rahman, nato in Afghanistan, classe 1993, senza fissa dimora, richiedente asilo. Karotai Omat, nato in Afghanistan, classe 1994, anche egli senza fissa dimora, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, poiché si sono resi responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish. Gli arresti sono stati effettuati nell'ambito della seconda fase dell'operazione Donota, che ha consentito di svolgere mirata azione di contrasto, finalizzata ad arginare il fenomeno dello spaccio. Le attività si sono concentrate tra i mesi di marzo ed aprile scorsi, quando sono stati documentati diversi episodi di cessione di hashish da parte degli indagati nei pressi della centrale Piazza della Libertà, dove gli stessi operavano. In tale luogo, infatti, venivano avvicinati dai clienti in cerca di dosi di stupefacente. L'operazione Donota, che già annovera quattro arresti nel mese di gennaio, fa seguito e costituisce il proseguo di quelle denominate Molo Audace e Via Geppa, che avevano consentito rispettivamente l'arresto di 11 e 6 cittadini afghani, tutti richiedenti protezione internazionale, con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Anche in questo caso, gli arrestati erano diventati un punto di riferimento per i consumatori locali, soprattutto giovanissimi. L'operazione, oltre all'arresto dei soggetti sopravindicati di etnia pakistana e afghana, ha portato a seguesto di numerose dosi di droga già confezionata e pronta per la vendita. Numerose le perquisizioni effettuate anche con ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza. Tutti gli arrestati, ad eccezione di Khan Imran, sono stati rintracciati presso il Silos, dove sono state altresì effettuate identificazioni e controlli a carico di circa 30 stranieri presenti. Continuano le attività di indagine per il contrasto a tale tipologia di reate da parte della squadra mobile coordinata dalla locale autorità giudiziaria al fine di individuare nuovi luoghi di smercio e relativi autori.